Ciao amici, bentornati sul mio canale, io sono Archizon, oggi siamo qui, 14 agosto. Sono qui a casa, perché fa davvero freddo, non è proprio il caso di scendere sulla spiaggia, chi se ne frega, allora ho pensato, adesso festeggerò in maniera innovativa a casa con i miei amici che magari mi staranno guardando, perché anche loro magari non hanno un cazzo da fare, non sono potuti andare sulla spiaggia per i primorini, ho detto faremo la cazzata di ferragosto, dai. Allora, gli ho procurato un pannellino di legno e una decina di scatoli di fiammiferi, no? Ha detto, mio cognato, andiamo a fare qualcosa di grandioso, ha detto vabbè, scrivo il mio nome, non ho Archizon, Luca è il mio nome proprio. Con i fiammiferi, poi li accenniamo tutti in una volta e vediamo che effetto fa. Sono esattamente 499, perché mio cognato per fare la prova ha aperto un pacco da impostore e me ne ha consumato uno. Ora con la matita di disegno, la traccia che dovrà seguire il fascio di fiammiferi e ci vediamo da un poco. Ok amici, ho finito il lavoro del mio nome con i fiammiferi, è venuto un mezzo schifo perché... Aspetta, mangio la pizza. Perché, me ne stavo a farso cosa, no? Un'imente fa un altro progetto, no? Ho fatto il fucile ad arco, vedete qua, la bottiglia di arco, l'ho messa a sparà, un fucile ad arco, poi, da fatto lo scioglio mio cognato, ha sparato all'erogatore con il quale nebulizzavamo l'arco nella canna di spara. Poi ha sparato al secco di frutta, poi ha preso l'aglio, ha sparato all'alto. Ah, fai questo cosa. Andiamo a parte a qua. Ma se sei il solito. Allora ho fatto sto cosa, no? Che c'è sto pulsante, ma è scarico, vediamo un po'? Sì, sì, è scarico. Ho sto pulsante qua che è l'accensione del pieto elettrico nel forno, pure fai ancora da queste cazzate. Ci ne puliziamo l'arco dentro la canna di spara, dentro l'assorbatoio, poi premiamo il pulsante. Fa un cazzo di botto. Adesso inserisco in questo video alcuni frame dei nostri spari. Vai! E? Ecco, Luca si prepara. Mettiamo alcuni... Sparo, sparo! Sparo, sparo! Comunque ho perso un macello di tempo e non ho più voglia di fare sto cosa. Poi ho scocciato e ho detto, va bua, fammi iniziare a incollare, mi cazzo caro. Io faccio sto cosa. Però è bellissimo, però qui se ne frega, abbiamo il fucido d'acqua. Lo sparo, lo sparo, lo sparo, lo sparo. Sparo, lo sparo, lo sparo. Mo' accendiamo sto coso e vediamo che effetto fa. Sparo, non si è mai più del merdo. L'assistente, registra. Aspetta, aspetta. Aspetta. Stai registrando? uscita la pizza aspetta e fa la sfiammata il calice di fuoco harry potter e poi dopo metti soltanto una spruzzata si guarda a mantenerlo ma non soffiare deve bruciare la col vecchia vieni qua una spruzzata sola proviamo vai vai landio ah forse lo devi indignato verso l'alto Luca non è che forse è perché lo devi indignato verso l'alto perché lo devi indignato verso l'alto eh si bellissimo la più alta onoreficenza mai concesso ok andiamo ad accendere la mia scritta dai ok ragazzi sono l'uno e mezzo di notte del 15 agosto ok adesso accenderemo la mia scritta con scritto Luca così immortalerò questo ferragosto 2017 ok il mio cameraman sta facendo il coglione ok continua ok la musica così va meglio in gioco scappa 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 oh oh è durato un attimo il mio nome va in fumo sta bruciando il legno spettacolo ma lo zolfo brucia subito che sta aspettando wow tu vuole fare i ponticelli tra lettera e lettera vabbè è inutile nooo wow wow spettacolo è figo lo stesso aspetta zoom ma 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 che non ma non ma Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.